Nella settimana del Festival della Canzone, il Trastevere vuole dimostrare che con l'Amatese è stata soltanto una stonatura. Per farlo oggi dovrà seguire uno spartito diverso, perché l'avversario è un Vasto Girardi ostico che in stagione ha fatto sentire ottime melodie anche e soprattutto lontano da casa. Dal Trastevere Stadium per il capitolo 23 del girone F di serie di Trastevere, Vasto Girardi. Quindi chiamato a rispondere soprattutto con la prestazione del Trastevere. Quindi Tortolano, c'è Bertoldi dall'altra parte a centro aria, eccolo il pallone per il 7 che cestina malamente ad un passo dall'1-0 il Trastevere. Ha un po' perso con la sconfitta dell'ultima giornata, punti appunto su la Vigor, mentre qui grandissima palla di Tortolano che innesca a Bertoldi, cucchiaio! Ma Petriccione è altissimo e l'aspettava proprio lì. Sei in area anche stavolta, il cross è sul primo palo, Santovito anticipato, Gargiulo fa un grande intervento. Bertoldi, Tortolano dall'altra parte, qui Macni con un gran controllo, elude l'intervento di Berardi e può correre. Cerca di sgambettarlo il 4, Macni scarica per Calemme, zona centrale, va in porta, arriva Forte Canale ad aiutarlo. C'è la Sulmancino, scarica invece col destro da Hernandez che cerca di rifinire per Calemme, poi il tiro di Anton Giovanni, Calemme sulla respinta e stavolta molto più vicino alla porta. Trovare Alonzi, chiamato un possibile fuorigioco dagli ospiti ma tutto buono, quindi Santarelli si mette in mezzo e se la riprende. Tortolano guarda addirittura alla porta! Lo stesso Bertoldi è ripreso anche il gioco con il solito spartito ma recupera Bertoldi alto, quindi Baldari prova a puntare Gargiulo, va giù il 4, tutto buono, Santarelli! Possesso? Qui intervento anche a vuoto di Laurenzi, può scappare Fiori che può puntare Santovito, sono addirittura 5 gli uomini del vasto Girardi, rientra Fiori, scarica in mezzo, Massimo con un intervento magistrale, recupera e spazza da capitano vero Solimeno che poi va da Hernandez, solo grandi sal limite, Hernandez forse pensa al tiro, la fa partire! Dribbling di Bertoldi che va a buon fine, forse anche passato col tunnel, e allora si aprono le praterie, vede Tortolano e lo serve, con Forzone per il 10, puntato l'avversario, la sposta sul Mancino, tira, rimbalzo e la palla non entra, poi sì! Forse Alolzi, ha segnato proprio lui, doppia cifra, 10 in campionato, l'ha sbloccata il Trastevere, Rocambolesco sì ma utile, fino in fondo il 9, Fiori, sono a posizione di Panaro, esterno per Macni, che porta avanti Berardi, calcio a Macni, spacca il palo, e poi ancora palla blu solo per un attimo, pronto Ruggeri, va dritto in porta, Alonzi risponde, poi Panaro male, grandi sinaria, ne lascia a sedere, mette a sedere due, poi Anton Giovanni ancora, Semprini la palla lì, Macni, ma l'arbitro affischiato, fuori gioco, è tutto fermo. Palla uscita, poi Anton Giovanni va addosso a De Costanzo, e poi gli mette anche la mano addosso, ed è rosso per De Costanzo. Calderoni si coordina, anticipa anche Giordani, poi Macni fa una follia totale, mani in faccia Giordani e rosso diretto. Sulla seconda palla pronto Crescenzo, che ha fatto una partita sontuosa da terzino destro, allontana, cercando Alonzi, la può chiudere il 9, si coordina col pallonetto di sinistro, giocata perfetta di Alonzi, che chiude, una partita perfetta, 2-0, doppietta, finisce qui, il Trastevere la porta a casa, 10 contro 10, con la ciliegina sulla torta del 9, che elegantemente chiude una partita spettacolare.